Il mare ha bisogno di braccia non solo per nuotare. In prima linea, questa mattina a Salerno, sul lungomare Colombo, nella rimozione dei rifiuti dal litorale, i volontari di Lega Ambiente, ma anche cittadini che hanno aderito al tour che ha fatto tappa anche in città, Ripuliamo le spiagge. Sviluppato dal gruppo VG in collaborazione con Lega Ambiente, l'iniziativa, avviata lo scorso 2 settembre e in programma fino al 17 ottobre, prevede la pulizia straordinaria di 60 spiagge attraverso la rimozione dei rifiuti. La campagna è la regione dalla quale è partito il tour. Ora, fino al 10 settembre, saranno ripulite ben 16 spiagge nelle province di Napoli, Caserta e Salerno. L'iniziativa ha portato questa mattina sulla spiaggia di Mercatello tante persone che hanno voluto contribuire a ripulire gli arenili da tonnellate di rifiuti ed evitare che entrassero in mare. Siamo qui, siamo appena arrivati a Salerno perché è una delle 60 tappe di questa campagna itinerante che coinvolgerà 60 spiagge italiane. Abbiamo scelto Salerno perché questa mattina realizziamo questa iniziativa insieme al socio Caramico di VG. Questa è la nostra 17esima iniziativa di un tour che toccherà 60 spiagge in tutta Italia. Abbiamo iniziato il 2 settembre e concluderemo il 17 ottobre. Abbiamo appunto pensato questa grande iniziativa insieme al gruppo VG come Lega Ambiente, sia per ripulire 60 spiagge in tutta Italia, sia per portare un po' questi temi sempre più importanti del mare in littro e dei rifiuti spiaggia. Grazie a tutti.